L'imprenditore terramano Franco Iachini pronto ad affrontare tutti e tre i gradi di giudizio con il suo ricorso sull'assegnazione delle quote private all'interno della TEAM, la partecipata del comune di Teramo, alla Comir SRL di Venezia e appartenente al gruppo Gavioli. Iachini deciso a ricorrere anche in Cassazione, i tempi intanto si allungano e non c'è ancora certezza sulla conclusione della procedura di assegnazione con una preoccupazione che nei giorni scorsi ha manifestato il sindaco Gianguido D'Alberto. Questo purtroppo non spetta a me dirlo per quanto riguarda la procedura di assegnazione competitiva, so che il sindaco ha manifestato alcune perplessità, sinceramente sono venuto a conoscenza e le condivido e le condivido. Per quanto mi riguarda io ho intenzione, anzi sicuramente presenteremo nei termini previsti al ricorso in Cassazione perché riteniamo fondate le nostre ragioni. Franco Iachini, patron del Teramo Calcio, da qualche mese non ne fa una questione di puntiglio, di rivalsa, ritiene con ragioni più che fondate di avere tutti gli elementi per poter far valere la sua istanza, ovvero la volontà di acquisire la quota privata della Teramo Ambiente. Credevo e credo tuttora nell'investire in questa società, nell'investire nel mio territorio, quindi era un'iniziativa che vorrei tentare fino in fondo, quindi abbiamo i tre gradi di giudizio, li percorrerò tutti e tre, se poi alla fine non avrò ragione, pazienza, però io non mollo fino a che non mi arrendo, se ritengo di aver ragione vado avanti, fino alla fine.